Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un altro episodio dove andremo a leggere la recensione Google di Lorenzo Lambro, e ne detto se dicessimo Lambro, recensione al bar Osteria La Quercia che potete trovare tranquillamente su Google. Andiamo a leggere la recensione integrale perché qui manca una parte del testo, e voilà, ecco la recensione integrale di sette mesi fa, Seven Months Ago, del Lorenzo Lambrenedetto XVI Lambro, che dà chiaramente 5 stelle al bar Osteria La Quercia. Miglior posto in Ticino per un pranzo, ottimo il rapporto qualità-prezzo, spazio, virgola, spazio, mi sono sempre trovato bene, spazio, virgola, spazio, veloci e professionale, senza spazio, virgola, spazio, ottimo in settimana sia a colazione che menù, lavoro, magari un bel punto alla fine non avrebbe fatto del male a nessuno. Il testo chiaramente è scritto in un italiano, Lambrenedettiano, ovvero un po' zeppo di errori. Miglior posto in Ticino per un pranzo ottimo, anzi, vedete che non si riesce a leggere bene, non è scorrevole come testo perché mancano appunto le virgole, oppure se ci sono sono messe un po' così alla cavole. Miglior posto in Ticino per un pranzo, virgola, ottimo il rapporto qualità-prezzo, punto. Mi sono sempre trovato bene, senza spazio, virgola, veloci e professionali, non professionale, dopo la virgola qui l'ha messa bene, ottimo in settimana sia a colazione che menù lavoro, punto. Mettiamocelo sto punto alla fine, ok ragazzi? Food, dunque cibo 5 punti su 5, servizio, service, 5 punti su 5, atmosphere, parking space, plenty of parking, insomma c'è tanto spazio per parcheggiare la macchina, parking options, free parking lot, dunque non costa niente apparentemente parcheggiare la macchina davanti al bar Osteria La Quercia, appunto parking gratuito di fronte. Eeeh, vabbè, se volete appunto andarvi a leggere di persona la recensione dell'Ambrene Damos, del bar Osteria La Quercia, su Google, fate pure. Poi ce n'è un altro, c'è il Piero della Francesca che anche ha recensito il bar Osteria La Quercia, non so se vi ricordate del personaggio Piero della Francesca, abbiamo fatto alcune reaction ai suoi video e lui ha fatto reactions ai video miei, perfetto, ci sta, perché no? Stiamo allo scherzo, eeeh, anche lui da 5 stelle su 5, sempre 7 mesi fa ragazzi, dunque, in concomitanza più o meno della recensione dell'Ambrene Damos, e già qui, hmm, c'è qualcosa che, una coincidenza, hmm, wow, davvero super, buon cibo, ottimo servizio, massima cordialità, ambiente davvero accogliente e piacevole davvero, puntini, 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 super, cibo 5, cibo scusate, 5 punti su 5, servizio 5 punti su 5, atmosfera 5 punti su 5, ragazzi, che dite? Scrivetemi nei commenti, magari faccio un salto anche io al bar Osteria La Quercia e faccio una recensione però onesta, ok? Ragazzi, per questo video è tutto, magari in settimana vedrò se riesco anche a trovare le recensioni dell'Ambrene Damos di quell'altro, di com'è che si chiamava? Non era il bar, quello prima del bar Osteria La Quercia, mi sembra che l'uscita fosse Lugano Sud, aiutatemi, non mi ricordo come si chiami, e vediamo anche se esiste la recensione dell'Ambrene Damos, di questo ultimo ristorante che pubblicizzava, durato pochissimo, mi sembra, lo ha pubblicizzato per una settimana, ragazzi, ciao, una buona giornata, una buona serata e una buona notte!